Signori e signori, benvenuti a TEDxBologna 2012. Grazie. La B20 ha deciso di avere una sinergia vera e credo che la B20 insieme a TEDxBologna possano riuscire a creare uno stimolo per tutti, sia per il network che per gli eventi che ci possono creare in futuro. Abbiamo voluto organizzare questa giornata per celebrare la passione e la creatività. Perché Bologna è una città in cui si può rischiare di essere creativi e innovatori e noi vogliamo rischiare con loro. Agli eventi come quelli di TEDxBologna partecipano persone vivaci, curiose, intraprendenti e quindi sicuramente questo può portare anche a delle collaborazioni future. Per noi in particolare magari ci può essere la possibilità di anche avere nuovi spunti su come indirizzarci per il futuro. Riteniamo che in TEDxBologna possiamo trovare una fucina di cervelli, di menti illuminate da poter utilizzare nel nostro network e quindi avviare delle collaborazioni da poter utilizzare anche nelle nostre iniziative. TED, nella fattispecie TEDxBologna, rappresenta indubbiamente un veicolo di comunicazione estremamente affascinante. Ho trovato uno spirito eccezionale nelle persone che hanno deciso di partecipare a questo evento ma soprattutto anche tanta umanità e tanta voglia di fare rispetto a tante realtà in cui si parla e magari il fare diventa un po' più difficile. Penso che l'idea di base del TED sia molto semplice e allo stesso tempo molto efficace dal punto di vista creativo. Perché TEDxBologna? Perché concetti come creatività, passione, cultura, trasmissione dei saperi, concetti estremamente vicini al mondo dei giovani imprenditori, al mondo delle piccole e medie imprese. Crediamo che con esperienza come quella con TEDxBologna ci sia possibile allargare la consapevolezza del territorio, dell'importanza di strutture come quella di Lepida, intese come strutture in grado di fare della rete, in grado di portare la connettività a cittadini, imprese, non direttamente ma indirettamente. Il nostro ruolo è quello di abilitare un territorio e credo che sia un ruolo anche molto congiunto con quello di TEDxBologna, quello di abilitare il territorio verso l'innovazione. Questa sia un'iniziativa di qualità che ha obiettivi comparabili ai nostri, quindi quello di promuovere appunto un ecosistema locale dell'innovazione. Perché come spirito noi abbiamo bisogno di stimoli e TED in assoluto credo sia la situazione più stimolante in questo momento.